ciao a tutti quanti ragazzi sono qua francesco merrino dei parkour giochi eh si ragazzi il mio canale il canale che iniziò quanto due anni fa un anno e mezzo fa davide quando iniziò il canale un anno e mezzo fa un po di più un po di più il canale era nato come canale gameplay poi sai piccoli sketch insieme a mio fratello ahimè purtroppo dopo mio fratello se ne andò a milano e io purtroppo rimasti qui meno male le cose sono cambiate questo video per me è molto importante questo video diciamo che è uno dei più importanti se non il più importante dato che comunque parlerò di qualcosa che stravolgerà completamente la mia vita di cosa si parla ragazzi si parla che io mi trasferirò a milano eh sì finalmente tante cose non potevo fare come fratello adesso le farò tanti progetti tante idee per nuovi video a milano chissà quante cose nasceranno anche perché la cosa che mi fa molto piacere è che tanta gente sia non delusa da questa cosa ma un po dispiaciuta perché dicono come una cosa ciccio tu valorizzavi la sicilia la sicilia però non valorizza me poi non è vero che qua c'è x murri tante persone c'è giampitec tante persone che comunque potrebbero valorizzare la sicilia io la valorizzo in modo infimo quindi non valorizzo mai un cazzo ogni volta che parlo di messina la parlo pure male però a differenza di mio fratello messina mi ha segnato molto messina mi ha fatto capire come cose del genere come youtube o comunque come marco mi ha abbandonato ecco marco l'ha abbandonato non vengano viste come cose tipo wow perché qua messina non so se sapete ma vanno pazzi fanno a cani di canazzo cioè ora capisco che è brutta come cosa anche perché vuol dire che quasi ma ancora al trash di andrea di pre cioè veramente gli antenati ma andiamo un po più avanti e ci sta vado a milano perché comunque ho più opportunità sono più sogni da realizzare ecco diciamo così qua a messina non ho tutta questa fortuna anche perché comunque qua messina è visto come un ehi fai video allora sei un bislacco che significa bislacco a parte scherzi ragazzi sono molto contento di annunciarvi che io in estate mi trasferirò a milano quindi tada finalmente è un video che lo metto adesso per prepararvi a questa cosa mi devo preparare anche io perché ne parlo adesso con tanta fierezza e poi a fine giugno sono tipo quello che posso augurarmi e augurarvi a voi di piacervi sempre di più è che sia un modo per far crescere il canale ancora di più e a me di realizzare comunque o di migliorare nei video migliorare come persona migliorare come ogni punto di vista ormai sono un cretino sono un cretino sto a casa con i miei genitori fanno tutto loro non mi puliscono le cose sono sono minchiate però capisco anche che è una cosa che mi formerà mi formerà quindi ragazzi i parco giochi finalmente ritorneranno insieme ritorneranno insieme tante tante serie insieme con mio fratello e mi dispiace lasciare messina lo dico veramente sono serio sono serio ma penso lo dico perché c'è proprio un valore affettivo non non si parla nemmeno di cosa offre messina semplicemente ci sono vissuto per 23 anni e quindi ahimè è un po' difficile da digerire ma non impossibile non muoio tornerò comunque quando ci sono le feste di natale se la cosa bella la cosa bella è che io con la scusa vado là torno qua che ne sono natale non faccio regalo a nessuno perché dico eh mamma vengo da milano sai tante spese da affrontare sono una persona veramente sola la cosa mi mancherà di più di messina sono gli amici e la famiglia questo penso sia molto normale ma anche la persona che anche le persone che mi seguono a messina sono anche se sono poche ma poche ma buone è il momento di festeggiare per festeggiare ragazzi brindiamo a voi è come con l'acqua guardate quanto sono veloce a bere mi fa malissimo la testa ovviamente continuerò qua messina finirò girati e dopo girati finalmente arriverà il momento il fatidico momento per ringraziare anche casa mia tutto da qua è nato ogni stanza ha una sua storia e anche ogni stanza ha un suo video quindi io direi di fare un piccolo tour per le stanze e adesso parte la parte malinconica davide via con la musica malinconica quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stato bello ragazzi, ci vedremo ai prossimi video che posterò qua sui parco giochi. Vi vuoi tanto bene. Scomparire! Grazie a tutti.